Che sia uomo oppure donna si tradisce per otto motivi. E non è che lo dico io, eh. Tutti i libri di psicologia dicono che ce ne sono più o meno otto. Allora, proviamo a vederne uno a uno. Il primo è il più semplice. Non stava bene nella relazione. E quindi, egoisticamente, è scappato dai problemi. Facile. La seconda ragione era che non era innamorato. Oppure non lo era più perché il sentimento con il tempo si è affievolito, insomma. O ama un'altra persona. Però prima di amare qualcun altro ce ne passa di tempo. A meno che magari io non sia innamorato di una mia vecchia compagna di classe da una vita. Però anche lì significa che in realtà non amo molto la mia compagna. E quindi si ritorna al punto numero due. La quarta ragione è che gli manca qualcosa. Quindi all'interno della relazione o non c'è attrazione o gli stimoli sono venuti meno. E al posto di parlarne con il partner, il traditore di turno cerca di colmare il vuoto soddisfando questo suo bisogno al di fuori della relazione. Poi c'è qualcuno che lo fa per desiderio d'avventura, novità, eccitazione, adrenalina, brivido della caccia. Questa è una cosa tipicamente maschile. Di contro a volte può succedere che il tradimento avvenga per vendetta, per ripicca, per rabbia. E anche soltanto per una presunta mancanza di rispetto. E questa invece è una cosa tipicamente femminile. O qualcuno è molto insicuro e ha bisogno di conferme e attenzioni da altre persone. Oppure infine ci sono delle persone che semplicemente non riescono a resistere alle tentazioni. Hanno una grande mancanza di autocontrollo e anche di maturità. E quindi agiscono di impulso senza pensare alle conseguenze. Queste sono le ragioni e gira e rigira sono sempre le stesse.